... Proporrà il Recco come prima finalista del campionato la prodezza di Marco Ferrone, un tiro velenosissimo da parte di colui che indossa il numero 8 come calottina il napoletano non giovanissimo, 26 anni da compiere a luglio sorpreso Tempesti? Sorpreso Tempesti da una finta e è rimasto molto alto con le gambe vedete dopo la finta è rimasto alto e soprattutto ha tenuto alto il braccio il pallone ha tirato